Oggi 11 settembre a Milano e ancora 11 settembre dopo 11 anni con Daniela Parrella e Giorgio Gale professore. Due generazioni a confronto, due modi per interpretare l'11 settembre. Cosa è successo da quel giorno, da quell'attacco alle Twin Towers? Quei due minuti che hanno cambiato la sorte dell'America e di tutto il mondo. Professore. Noi stiamo venuti in questa bella biblioteca per presentare questo libro di una giovane studiosa che ha raccolto una solida documentazione e che permette un confronto che secondo me è delle teorie dette del complotto da un lato che possono essere analizzate e confutate e dall'altro delle insufficienti risposte ufficiali che tuttora l'amministrazione americana non ha dato su alcuni aspetti ancora oscuri dell'11 settembre. Daniela Parrella è riuscita a collocare queste due interpretazioni in una visione globale che riguarda 11 anni fa, che riguarda oggi e che purtroppo riguarderà anche gli anni futuri, dei rapporti e delle modalità con le quali gli Stati Uniti e tutto l'Occidente devono affrontare un fenomeno definito terrorismo e che invece riguarda la presenza di un integralismo islamico in un mondo geopolitico molto multipolare. Daniela Parrella, autrice di 11 settembre, Reloaded, Terrorismo, Complotti e Relazioni. Giovane, la tua visione? Dunque, io partirei da questo concetto importante secondo me, intitolare questo libro Reloaded ha proprio il senso di un 11 settembre, cioè un fenomeno, quello del terrorismo, che è stato semplificato subito dopo l'attacco dell'11 settembre, ma che invece va analizzato nella sua radicamento culturale e sociale e economico e solo questo, solo la chiave della comprensione, dell'abbassarsi anche ad una comprensione più profonda di questo fenomeno, ci può far sperare di risolvere attraverso una politica di antiterrorismo che non passa per la violenza, ma passa prima di tutto per la comprensione dell'altro, quello che è il male del futuro, che ci aspetterà. Professore, quale possibile soluzione, quale idea per il futuro? Beh, soluzioni, ecco la cadenza del sesso Daniela, una migliore comprensione e certamente un tentativo di avere attorno all'11 settembre verità che non sono ancora evidenti e che rendono facile da un lato una certa diffusione di quello che Daniela definisce complottismo e dall'altro non ci fanno capire le ragioni profonde di quello che chiamiamo integralismo islamico. È uno sforzo di conoscenza oggettiva soprattutto che possiamo fare. Per l'Europa e per l'Italia soprattutto, quale futuro? Possiamo essere ottimisti? No, l'Italia sta attraversando una fase molto difficile e vedo uno scarso senso di responsabilità è un vago ottimismo e un vago conformismo che circonde il governo Monti, mentre sarebbe più opportuno una riflessione critica su quello che sta accadendo. Grazie professore. 11 settembre, Roledid, Daniela Parrella con Giorgio Galli, due generazioni a confronto. La seconda meglio della prima. Grazie.